Bella raga, buonasera, dunque eccoci ritornati con un nuovo video e parliamo di questa terza e ultima giornata per quanto riguarda il girone C e il girone D. Dunque il girone C che tutto sommato è andato come da pronostico, Francia e Danimarca non si sono fatte male e dunque è partita che sembrava quasi un amichevole finita 0-0 mentre il Peru ha battuto un po' sorpresa all'Australia per due reti a 0. Invece molto interessante, quasi a Cardiopalma è stato invece per quanto riguarda il gruppo D dove la Croazia già era qualificata, non ha fatto nessun biscotto, onore ai croati, vincono 2-1 sull'Islanda con le reti del fiorentino Milan Badel, ex fiorentino o meglio Milan Badel. Poi il pareggio di Sidgusson sul rigore, alla fine al novantesimo l'interista Ivan Perisic, dunque la Croazia che chiude a punteci pieno con 9 punti, passa anche l'Argentina. Scusate, scusate un po' di tosse. Passa anche l'Argentina a 10 minuti dal termine con un gol di Marco Rojo dopo che l'Argentina è andata in vantaggio con il solito Lionel Messi, poi ha pareggiato Moses, il giocatore del Chelsea, su calcio di rigore. Un rigore che per me era inesistente. Un altro rigore è chiesto, o meglio, per me non c'era, inesistente proprio no, è un rigore che si poteva dare. Io sinceramente non l'avrei dato. Bene Kakir nel non dare il secondo rigore alla Nigeria richiesto col VAR perché il giocatore dell'Argentina tocca prima con la testa e poi con le mani. L'intenzione non era quella di toccarla con le mani. Io sinceramente cambierei un po' questa regola delle mani perché uno non è che può saltare tipo un soldato sull'attenti. Cioè uno salta è normale che chi è giocato a calcio sa che si salta così. Se la balla per finire è qua. E adesso c'è la moto che danno sempre il rigore. Per me non è giusto. Comunque, fatto sta, l'Argentina salta. Non voglio parlare assolutamente del gestaccio fatto da Maradona. A me fa piacere che l'Argentina sia passata, anche se mi sta un po' antipatico San Paoli. Maradona ha fatto il gestaccio del dito medio, rivolto presumibilmente a quelli sotto di lui che erano tifosi della Nigeria. Non campione come lui, queste cose. Non bisogna farle. Quindi, vabbè. Non voglio parlare di calcio, non voglio parlare di queste cose. Dunque, l'Argentina che affronterà la Francia negli ottavi di finale, mentre la Croazia affronterà la Danimarca. Molto piangevole la partita per i croati. Domani si chiudono altri due gironi. Il girono E e il girono F, se non sbaglio, sì. Dunque, alle 16 c'è Messico-Svizzera e Corea-Germania. Dunque, al Messico basta un punto per eliminare la Svizzera, visto che ha 6 punti un po' sorpresa. Però, in caso di vittoria... la Svezia, scusate, non la Svizzera. Dunque, mentre la Germania, con la Corea ormai, possiamo dire, già eliminata, deve cercare di fare almeno un punto e sperare che la Svezia non venga col Messico, oppure di vincere e stare tranquilla. Poi si va a vedere se, in caso vincesse anche Germania-Svezia e Svezia, se andrebbe Messico-Svezia-Germania con 6 punti. E a quel punto si andrebbe a vedere la classifica pulsa con la differenza reti e passeranno le prime due con miglior differenza reti, oppure con più gol segnati. Alla fine, se è proprio tutto pari, si andrà a vedere le ammunizioni, ma non credo che si arriverà a tanto. Alle venti, altre due gare importanti, soprattutto Serbia-Brasile, dove c'è praticamente lo spareggio. Brasile a 4 punti, la Serbia di Milinkovic-Savic a 3. Dunque, Brasile deve puntare anche qui su un pareggio, su una vittoria, 2-3 per passare il turno. Dunque, sarà molto dura per la Serbia. La Svizzera, invece, non dovrebbe avere problemi con il Costa Rica per passare poi il turno successivamente. Comunque, ci sentiamo domani per vedere domani sera come sono finite queste altre gare. Per il momento è tutto, complimenti all'Argentina, complimenti al Lionel Messi, che finalmente ha giocato una bella partita. La colpa, ragazzi, non è di Messi, ma se la squadra non gira, Messi non è il padre eterno. È forte, fa la differenza, ma se la squadra non gira, non può fare tutto Messi. Però oggi si è visto un bel spirito. Per il momento è tutto, vi auguro una buona notte, sempre fino alla fine. Ciao a io! Ciao a io!